Caro vecchio amico Carlo Ancelotti, tornato a sedersi, i migliori giocatori Ancelotti, ecco perché ha forzato un po' i rientri. Una bella atmosfera, sono 30.000 tifosi presenti oggi nel stadio Senaccio e soprattutto c'è il debutto con la media del Real Madrid, l'unico! L'Ità, ultimo anno di contratto con il Real Madrid, vedremo che aveva chiuso la stagione con un infortunio pesante al ginocchio, ha cambiato la coppia centrale. Il Real Madrid con il Varane, passato a Mori, Hernandez con Tomori a destra, Romagnoli a sinistra, Tonali, Krunic e Don Dias ha meritato la conferma, altro anno di Prezzo. Contro la Samp, inizia adesso la gara con il Milan a giocare. Un bel gol lo scorso anno è decisivo, Champions contro l'Inter. Subito una botta Tonali, bene Salmacherz, 1-2, Leao in area di rigore, Leao finta, Leao sterza, blocco 2 contro 1, Leao, Hernandez, Brahim Dias all'altra parte, Hernandez in portapalo! Poi è in palla adesso, Brahim Dias, adesso... Non c'è fuoco, Hernandez difende, aiuta Krunic, Bale va sul destro, crossa, Magnan, Krz, taglia, c'è anche Giroud, Salmacherz al limite, verso Leao, passaggio sbagliato. C'è il secondo palo, Bale, crossa per Jovic, la palla è buona! Tocca appena appena Hernandez, poi Jovic è rimesso dal fondo. Bale vorrebbe il calcio d'angolo, Teo Hernandez vorrebbe il fallo, una buona giocata per Lukas Vazquez. Tomori tocca, Leao all'ongiru, tacco, Krunic allarga, Leao può andare in porta, lo fa male però. Con spazio il 22, visto, controlla, anzi cerca un colpo di... Stop, c'è Rodrigo, il cross è per Jovic, meglio di Romagnoli. Quel ruolo, nei due. Terza opportunità, riesce a crossare sul secondo palo per Brahim Dias. Marcello tocca il pallone, calcio d'angolo, sembrava live, non per l'assistente. Movimento di Krunic, premiato, bella giocata ancora con Giroud. Esterno per Jovic, Salmachert da terra, recupera Casemiro. Calcio di Giroud, fallo. Fallo brutto di Bale. L'abitro ha perso il fischiere. Palla persa, Isco! C'è deviazione, c'è calcio d'angolo. Non abbiamo visto l'uscita, credo sbagliata da dietro del... Molto nella storia. Bale, punta, dribbla, fallo di Romagnoli. Dimostra però di aver voglia, Gareth Bale. Compagni, vada solo allora Calabria. Nacho, gran recupero. L'abitro poi decide di fischiare. Intervento col piede sul pallone, qualche dubbio minimo. Lucas Vazquez, cross bello per Jovic. Cercare Tomori, Bale. Bale, Modric. Calcia male col sinistro. Non ha provato questa volta lì. Esterno destro. Verso Giroud. Nacho, seconda palla. Salma Kers controlla Isco. Alla baccalcia, Mignon. Risponde. Non difficile la parata del portiere. C'è Teo Hernandez. Bale, cambia direzione bene, poi scivola. Tornato Teo Hernandez. La possibilità, il pensore del Milan, di conquistare il posto. Mignon. Un brivido sul tiro di Bale. Alcio d'angolo. Leao. Alaba. Mignon. Verso Giroud. Torna Giroud. Palla per Bale. Ci riprova. Stavolta. Rodrigo va veloce. Lo supera bene. Rodrigo in aria con l'esterno. Tomori. Attentissimo. Solo Bale. Supera Tonali anche Calabria. Bale in aria. Bale giù. Pallo di Calabria. Calcio di rigore. Giallo per Calabria. Mignon. Para. Tomori allontana. Dopo qualche errore di disimpegno con i piedi. Il portiere francese. Calabria. Movimento di Giroud. Palla però contro il Barcellona. Poi c'è anche Sinner. Romagnolo. Finisce il primo tempo. 0-0 tra Real Madrid. Per il secondo tempo di Real Madrid. Milan. Adesso per Nacio. Miguel Gutierrez. Sinistra. Blanco Modric. Teo Hernandez. Sbagliato. Calabria bravo. L'uno contro uno. Ferma. Gutierrez. Inbucata. Mariano Diaz. Tomori. L'offere veloce. Miguel Gutierrez è servito. La palla è lunga. Può andare al cross. Tomori Calabria. Colpo di tacco. Palla passa. Rodrigo controlla. Rodrigo in porta. Romagnolo. Bene. Poi l'imbucata. Rodrigo. Calcia in porta. Conclusione. Modric. Conclusione. Traversa. Di Luca Modric. Gran botta. Arriva bene il pallone. Giocata da strada di Vinicius. Guarda la gara. Florentino Perez. Modric. Magian esce bene con Ipsario. L'ha bloccato. Teo Hernandez. Palla morbida per Giroud. Cerca la sponda. Tacco di Vinicius. Miguel Gutierrez. Bella finta di corpo su Tomori. Vinicius. Miguel Gutierrez. Vinicius. Bella giocata. Poi Modric fermata. Salma Kerz lo ferma ancora. Palla per Brahim Diaz. Stop. A limite. In porta. Lunin. Calcio d'angolo. La solita fiammata del 10. Giocata già vista lo scorso anno. In campionato. Alza il pallone. Lungo per Isco. Imposta col suo destro. Lucas Vazquez. Prima giocata a tre. Per liberare ancora Teo Hernandez. Dribbling su Militao. Dentro Giroud. Tonali. Verso Rebic. Scontro con Miguel Gutierrez. Ultimo tocco del Croato. Passa in mezzo a Tonali. E Salma Kerz. Tonali aiutato da Pelle lo ferma. Salma Kerz. Tonali. Spinto Brahim Diaz. Fallo. Fallo di Antonio Blanco. Ve customer. Arbiter daў inona. Daro'o do time. Cu Cinema. Tarar dani Peak. graf pass è una di più forte è verbanega catano il mianco e il corso il risultato il risultato è successo il giocatore in centro il giocatore il giocatore il giocatore e che altro il giocatore è un giocatore e il giocatore il giocatore il giocatore Vedete il giocato per il giocato e offede il pass. E'vado per il giocato, ma che è il giocato? Ma che è così, il giocato il giocato per il giocato? C'è una posizione di giocato per il giocato, ma sfaccato l'occhio e qui è afficterato. Artur Poterian mяч Barca